Posti di lavoro persi, famiglie senza un reddito, è un fronte caldo in continua espansione quello che stanno affrontando queste associazioni. Oggi è una riunite nella sede di Pro Valtellina, la ONLUS che grazie al sostegno del territorio, nelle sue componenti pubbliche e private, sta sostenendo progetti solidali. È un piacere vedere queste associazioni che con tanto entusiasmo aiutano il territorio. Noi cerchiamo di metterci a disposizione anche con la raccolta di tanti donatori, di tante aziende che donano la fondazione Pro Valtellina. Ecco, queste associazioni con i loro volontari e con la loro tanta voglia di fare, stanno veramente aiutando la nostra comunità. Novi progetti varati grazie al Fondo Contrasto alle nuove povertà. Il Fondo Povertà che abbiamo aperto insieme con Fondazione Cariplo sul nostro territorio, è un fondo sul quale si deve aderire. Anche con piccole donazioni noi possiamo aiutare queste nostre associazioni ad operare bene come stanno facendo nel territorio provinciale. Ci sono anche due bandi aperti. Abbiamo adesso dato vita a due nuove iniziative, due nuovi bandi. Il bando emblematici provinciali, 530 mila euro per la provincia e 180 mila un bando sul sociale. La scadenza è a ridosso dei primi di ottobre. Ci siamo sempre, siamo a completa disposizione. Non posso lasciare indifferenti le difficoltà vissute con grande dignità da un numero crescente di persone. Don Cristian, mettere un piatto in tavola sta diventando un problema durante la pandemia? Sì, da quello che vedo io personalmente con i miei collaboratori, ma anche da quello che sappiamo dalla Croce Rossa, da quello che sappiamo dal Centro di Ascolta della Carita, da quello che sappiamo anche dal Centro di Uito alla Vita, adesso con la crisi lavorativa, con tante persone che magari avevano anche lavoretti, saltuari, sono rimasti a piedi, rimanendo a piedi senza una piccola entrata, le situazioni sono aumentate. C'è un conto corrente dedicato alle donazioni e ad ottobre partecipando alla Ponte nel Cielo Run si potrà dare il proprio contributo alla raccolta fondi.